Siamo qui all'ottavo concorso fotografico Obiettivo Terra con il comandante Antonio Ricciardi che ha un grande compito, quello di creare nell'Arma dei Carabinieri un corpo forestale. Sì, effettivamente noi più che creare proseguiamo quella che è una tradizione, un'eccellenza del corpo forestale dello Stato che è stato assorbito, ma io dico che ha arricchito l'Arma dei Carabinieri con queste nuove competenze e professionalità. Il compito è arduo perché ci viene affidato da una legge, ci viene affidato una legge che individua nell'Arma dei Carabinieri la forza di polizia esclusiva per la tutela ambientale e parliamo di una tutela ambientale a 360 gradi perché il comando che è stato istituito è il comando per la tutela forestale, ambientale, agroalimentare, quindi è una tutela che guarda tutti gli aspetti della natura, della salute e quindi qualcosa che serve anche a stavaguardare la nostra terra. Quali sono i reati più diffusi che voi trovate? I reati sono quelli classici che abbiamo sempre perseguito e anche i nuovi reati ambientali che sono stati da poco approvati con legge. Ovviamente il problema non è il reato in sé, ma è tutta l'attività che c'è a monte del reato, c'è tutta l'attività di educazione e di prevenzione perché un efficace contrasto non è soltanto nella fase ultima e repressiva quando il danno all'ambiente è compiuto. Ecco che in questo noi assorbiamo quelle che era già nella nostra cultura, ma che è anche nella cultura e nella tradizione del corpo forestale. Noi abbiamo mantenuto, istituito e rafforzato tutti quelli che sono i comparti per la biodiversità, per la conservazione dei parchi, cioè tutto ciò che era l'anima vera e propria del corpo forestale e che oggi continua con le stesse competenze e con la ricchezza che ci è stata tramandata dal corpo forestale anche con la nuova struttura dell'arma dei carabinieri. Possiamo dare un consiglio ai nostri telespettatori per in qualche maniera aiutare l'ambiente italiano? Certamente, intanto la tutela dell'ambiente non è affidata a una forza di polizia o a un'istituzione, è un compito di tutti quanti noi, a cominciare dalle scuole, dove tante iniziative ci sono con ad esempio l'albero per le scuole, che serve proprio per dire ai bambini l'ambiente è vostro, la tutela dell'ambiente attraverso queste manifestazioni che sono simboliche va affidata a tutti quanti, siamo tutti carabinieri a difesa dell'ambiente.